L'ambiente unito ti fa fare i miracoli, è dimostrato in chi ha fatto degli campionati eccezionali e non se lo aspettava. Sabato andiamo a fare una partita a Salerno, che è una partita secondo me molto difficile. Contro una squadra che ha i nostri stessi punti, forse hanno più entusiasmo di noi, però i punti sono gli stessi, quindi sarà una partita molto difficile. E dove finalmente noi vogliamo cercare di fare qualcosa di importante, non è che le altre volte non ci siamo riusciti, però dobbiamo cercare di andare là, sapendo che sarà una partita che al di là della coreografia che ci sarà, del gemellaggio, gemellaggio in campo nella mia vita non l'ho mai visti, quindi sicuramente sarà una partita dove la Salernitana cercherà di vincere in tutti i modi, ma dove noi andremo per cercare di fare risultato e portare a casa punti, perché oggi nella classifica va vista solo con la voglia di portare a casa punti. Dentro di noi siamo tutti volenterosi, ambiziosi, quando perdiamo facciamo una settimana come se fosse, la viviamo come un lutto, e quando vinciamo siamo felici e contenti e penso che la maggior parte dei tifosi baresi la vivono così. Però gli obiettivi si costruiscono partita dopo partita. È inutile stare qua a domandarci questo Bari cosa può fare, dobbiamo essere uniti con l'ambiente, darci la mano tutti, incitare i ragazzi, creare l'entusiasmo. E quando capita una sconfitta, questo è un campionato che non ti puoi né piangere addosso per una sconfitta, né gioire per una vittoria, perché un giorno dopo devi già pensare all'altra partita. Te lo dico sinceramente, oggi non pensiamo al mercato, pensiamo ai giocatori che abbiamo, pensiamo ai giocatori che stanno allenandoci tutti i giorni per dare delle gioie ai tifosi, che sono concentrati e vogliono fare bene. Non parliamo di cose che oggi sinceramente non ti portano da nessuna parte, non è la mia preoccupazione oggi chi non è venuto, chi non è voluto venire, sinceramente non mi interessa. Sono contento che c'è una squadra competitiva dove dobbiamo battagliare con tutti, dobbiamo andare a Salerno a far vedere che è ora di far vedere che per battere il Bari fuori casa bisogna impegnarsi tanto e speriamo che non basti e basta. Questa è la mia preoccupazione oggi, è pensare alla partita di sabato, ma non vado più avanti con i miei pensieri. Subuselato in Prota, sicuramente sono due giocatori che stanno facendo un grande campionato, hanno lo spirito giusto che serve a questa squadra di giocatori che non mollano mai, che vogliono che lottano su ogni palla. Questo è lo spirito che serve secondo me per affrontare questo campionato. Secondo me è un allenatore che farà molto bene nella sua carriera. È normale che adesso, al di là di augurargli una grande carriera, penso che la farà. Noi dobbiamo pensare qua adesso, lui ha un contratto non annuale, ha già un altro anno di contratto, ma ripeto, il calcio è talmente volubile che si passa dalle stelle alle stalle tutti. Noi, forse anche per carattere, siamo persone che hanno i piedi per terra, lui anche, infatti non è che si sbilancia tanto, voi lo sapete, però penso che sotto certi punti di vista non è che si sta a fare cinema. Lui è una persona intelligente che sa quello che vuole, sa che ha una grande possibilità qua a Bari e si impegna tutti i giorni per cercare di dare un'identità a una squadra, un gioco a una squadra che penso che siano le armi che lui vuole usare per ottenere degli obiettivi, per raggiungere gli obiettivi. Non sono solito a fare classifiche degli altri, voglio valutare. Ho sempre detto che ci sono 5, 6, 7 potenziali scocciettai, quindi squadre più forti del Bari. La penso ancora così, sono contento di aver scelto questo allenatore insieme al Presidente e di aver scelto questi giocatori. Tutte le squadre sono, come ho già detto, lo dico sempre, ma lo penso veramente, sono migliorabili. Ma sappiamo che abbiamo una squadra competitiva che deve sicuramente impegnarsi alla morte per vincere una partita perché le cose facili a noi non vengono, ma perché il calcio è fatto di sacrificio, di difficoltà e cercare di superarle.